Il Signore fa le cose semplicemente, con umiltà, lontano dallo spettacolo mondano. Lo ha ricordato Papa Francesco, celebrando la messa nella cappella della Casa Santa Marta. Partendo dal Vangelo odierno, in cui Gesù rimprovera gli abitanti di Nazareth per la mancanza di fede, il Pontefice ha invitato tutti a riflettere sullo stile del Signore, che ci chiede di essere umili e semplici. Quando ha voluto liberare il suo popolo, lo ha liberato per la fede e la fiducia di un uomo, Mosè. Quando ha voluto far cadere la potente città di Gerico, lo ha fatto tramite una prostituta. Anche per la conversione dei samaritani, ha chiesto il lavoro di un'altra peccatrice. Quando lui ha inviato Davide a lottare contro Goliath, sembrava una pazzia. Piccolo Davide davanti a quel gigante, che aveva una spada, aveva tante cose. E Davide è soltanto la fonda e le pietre. Quando ha detto ai magi che era nato proprio il re, il gran re, cosa hanno trovato loro? Un bambino, una mangiatoia. Le cose semplici, l'umiltà di Dio. Questo è lo stile divino. Mai lo spettacolo. L'umiltà di Dio. L'umiltà di Dio. L'umiltà di Dio.